Una casa disabitate andata in fiamme nella serata di Domenica in località Caselle di 90 Vicentina. Erano quasi le 10 quando sul posto sono arrivate le squadre dei pompieri provenienti dall'Onigo e Vicenza. Le fiamme erano alte, c'era anche molto fumo. Fortunatamente non c'erano persone all'interno, anche se i fatti fanno pensare che forse qualcuno prima fosse stato presente. A bruciare cumuli di masserizie, principalmente indumenti e rifiuti ammassati all'interno del garage e delle ramaglie appena fuori l'abitazione è faticente. La casa, da quanto si è potuto accertare, viene probabilmente utilizzata da persone senza tetto. Le cause, probabilmente colpose delle fiamme, sono al baglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto.